L'azienda svizzera Balli, noto marchio internazionale per la produzione e la distribuzione di scarpe, borse, capi di abbigliamento e accessori d'alta moda, nei giorni scorsi ha confermato la fiducia a replica sistemi, firmando l'ordine di installazione di Stock System Evolution nei regional warehouse di Hong Kong e Tokyo. Analizzando gli ottimi risultati in termini di produttività, servizio al cliente ed efficienza, conseguiti grazie all'utilizzo dell'applicazione software installata nel 2010 nel regional warehouse del New Jersey per la gestione del retail e dell'all sale, il management di Balli ha deciso di implementare Stock System Evolution anche in Cina e in Giappone. In aprile Claudio Caprari, vice president replica sistemi, ha coordinato il progetto dei regional warehouse di Hong Kong e in novembre a Tokyo, in Giappone. Nel 2012 tornerà in Cina a Shanghai. L'headquarter produttivo di Balli è a Caslano in Svizzera, dove si trovano i server su cui nel 2004 è stato installato Stock System. Da qui le merci vengono inviate nei vari regional warehouse collocati nei diversi continenti per la distribuzione retail nei negozi Balli e wholesale nei negozi multimarca di quell'area. Oltre ad interfacciarsi con il sistema informativo SAP utilizzato da Balli, Stock System Evolution risponde alle esigenze tipiche del settore fashion e, nel caso specifico, gestisce le calzature, i capi appesi e i resi dai punti vendita. Si conferma così il processo di internazionalizzazione e di specializzazione di replica sistemi nell'ambito dei servizi IT per la logistica e i trasporti.